Grazie per aver fatto acquisti da Pegacorp, torni presto da noi. Grazie per aver guardato il video. 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 Grazie. Grazie. Grazie per aver guardato il video. Grazie. Grazie per aver guardato il video. Grazie. Grazie. Grazie per aver guardato il video. Grazie. Grazie per aver guardato il video. 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 Grazie per aver fatto acquisti da Metricorps, torni presto da noi. Grazie per aver guardato il video. 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 Grazie. 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 Ho puntato i miei soldi su Lombax. Non posso credere a ciò che vedo! Tu sei il vincitore! Di nuovo in combattimento! Il lottatore preferito dal pubblico colpisce, distrugge e basta! Date il benvenuto a Chank Blade! Non posso credere a ciò che vedo! Chank Blade ha trovato un degno avversario! Non posso crederci! Chank Blade è stato sconfitto! Tu sei il vincitore! Scegli la tua battaglia! E il premio è tuo! Come guardare un deragliamento! Wow! Ho puntato i miei soldi su Lombax! Non posso credere a ciò che vedo! Non posso credere a ciò che vedo! Non posso credere a ciò che vedo! Che vedo! Non posso credere a ciò che vedo! Non posso credere a ciò che vedo! Se provieni, ti faranno male. Oh, questo lascerà il segno. Di nuovo in combattimento. Il lottatore del delito dal pubblico colpisce, distrugge, devasta. Date il benvenuto a Chank Blade. Chank Blade ha trovato un degno avversario. Non posso crederci, Chank Blade è stato sconfitto. Congratulazioni, hai vinto la mega sfida. Scegli la tua battaglia. Come guardare un derragliamento. Wow! Ogni ultimo attivare il segno di lei, ti faranno male. Puntando i miei soldi su Nandax. Scegli una battaglia e vinci un premio! 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 Il terrenoso è infuriato! Dare un derragnamento! Questo ragazzo! Il ragazzo è infuriato! Ho puntato i miei soldi su Lombax! Scegli una battaglia e vinci un premio! Non mi importa da che galassia provieni, ti farà male! Da dove viene questo ragazzo? Non posso crederci! Chainblade è stato sconfitto! Non mi pare fosse sicuro! Non mi pare che vinci un premio! Non mi pare che vincere! Non mi pare che vincere! Quindi! Scegli la tua battaglia! A più tardi! 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 Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.